A Brutto Bici nasce con uno scopo ben preciso, vogliamo far conoscere il nostro territorio non soltanto ai bagnanti locali, ma cercare di far arrivare il nostro messaggio attraverso l'app in tutto il territorio regionale, interregionale e perché no anche internazionale. Che cosa contiene questo app? Tutte le informazioni utili ai bagnanti, tutto quello che comunque all'interno della città c'è per quanto riguarda la programmazione degli eventi. C'è un bagnante che se si sposta da un capo, che ne so, da Carsoli e vuole venire a Pescara, visita il nostro app e dice forse vengo a Pescara perché c'è il premio Flaiano, oppure vengo a Francavilla perché c'è il premio Michetti, oppure a Montesilvano perché c'è il riconoscimento del premio Dean Martin. Sono tutte notizie utili che uno trova all'interno dell'app. Trova anche notizie che promuovono gli stabilimenti balneari nelle loro attività di intrattenimento, ma anche di piatti tipici. Per esempio c'è tanti piatti che uno può promuovere attraverso qua. La cosa anche importante c'è pure l'opportunità di promuovere il prezzo dell'ultimo minuto. E cioè il proprio stabilimento balneare all'interno dell'app promuove, che ne so, in una domenica sono vuoti 10 ombrelloni, promuove quella opportunità di prezzo favorevole e consente a tutti. Promuove all'interno dell'app quali sono, per esempio uno vuole venire a Pescara all'inizio di stagione e non sa che c'è una maratona sul lungomare, se vai a visitare l'app c'è quella informazione e ti dice a te bagnante guarda non entrare a nord ma entra a sud perché a nord ci sta la maratona. Quelle notizie utili che servono quando noi viaggiamo.